Si è rivolto ai carabinieri per cercare di recuperare il denaro perduto un 47enne di Vigo d'Arzere che aveva tentato di comprare online una cassa acustica. In un noto sito l'uomo aveva trovato quello che considerava un affare 200 euro per l'oggetto desiderato. Peccato che dopo aver pagato i soldi della cassa acustica non aveva avuto alcuna notizia. Al malcapitato non è rimasto altro che rivolgersi ai carabinieri che dopo un'accurata indagine hanno denunciato per truffo un 28enne napoletano e un 38enne di origine cinese ma residente nella provincia del capoluogo campano.